Ricordo che abbiamo già erogato oltre un miliardo soltanto dell'ultima tranche del ristori del decreto 137 che è del 28 ottobre di quest'anno, quindi a distanza di 12 giorni abbiamo erogato oltre un miliardo di nuovi contributi a fondo perduto. Il decreto originale, quello di... non mi ricordo uno dei tanti nomi dei decreti che abbiamo dato che ha istituito il fondo perduto per la prima volta, ha erogato oltre 6 miliardi e mezzo di contributi a fondo perduto per le imprese, anzi 6 miliardi 685 milioni per esattezza dato l'agenzia delle entrate, quindi è inconfutabile.